non c'è nessuno di commissariare Napoli la democrazia non si commissaria Napoli si è liberata esatto così come Bagnoli Libera il nostro obiettivo è liberare tutti i quartieri di Napoli dalla camorra, dal malaffare, dalla corruzione da un sistema politico che per troppi anni ha oppresso la nostra città la cosa bella è questa forse era impensabile un po' di tempo fa che si potesse venire a Montecitorio insieme movimenti popolari, abitanti, cittadini immigrati, precari, disoccupati e il sindaco questo è il segno che Napoli nelle sue diversità in questo momento è unita e vuole dare al paese l'immagine di un mezzogiorno che non sta qua col cappello in mano non stiamo a chiedere l'elemosina ma stiamo a rivendicare i nostri diritti la nostra dignità la nostra autonomia e che a Napoli decide il popolo e decidano i napoletani non decide il governo grazie, buona lotta e noi ci saremo Napoli libera! questa partecipatissima piazza c'è anche chi domani sarà in piazza per il Kurdistan quindi invitiamo a parlare gli organizzatori della manifestazione per spiegarci nel dettaglio domani come si svolgerà la giornata organizzatori della rete Kurdistan misteri e domani è rimbจolata suonный ma